Ok, via libera, facciamo una bella figura. 5, 4, 3, 2, 1, vieni la sinistra sul crinale, 60, sinistra 3 in abballamento e crinale, destra 3 in abballamento, 60, destra 4 sul crinale, sinistra 2, apri in abballamento, crinale e abballamento, destra 4 sul crinale, 100, dai a centro su salto alto, 60, crinale, 60, destra 5 sudosso, sinistra 4 lunga in abballamenti e sinistra 3 sudosso, destra 4 sudosso, destra 4 sul crinale, in sinistra 5 in abballamento e attenzione, destra 4, vieni la destra sul crinale, salto, destra 6, sinistra 6, abballamento, 80, crinale, destra 6, in linea in abballamento, stai a centro sul crinale, vieni la sinistra sul crinale, 60, sinistra 4 sudosso, destra 3 sudosso, e destra 4 lunga in abballamenti, sinistra 5 sudosso, destra 6, angolo retto, sinistra lunga e sinistra 4, in destra 5, sinistra 4, in destra 2, lunga sudossi e crinale, sinistra 3 in abballamento e crinale, destra 3 in abballamento, sinistra 3 in abballamento, tieni la sinistra sul crinale, salto, tronchi interni e destra 4 in abballamento e sinistra 4, sinistra 6 sudossi, destra 5 lunga, 80 sudossi, sinistra 6, sinistra 4 sudosso, destra 3 sudosso e destra 4 lunga in abballamenti, sinistra 5 sudosso, destra 5 sudosso, sinistra 4 lunga in abballamenti e sinistra 3 sudosso, destra 4 sudosso, destra 4 crinale, sinistra 3 lunga sudossi, sinistra 3 lunga sudossi, crinale con salto, 60 sudossi, destra 4 sul crinale, sinistra 5 in abballamento e attenzione destra 4, tieni la destra sul crinale, salto, sinistra 5, destra 5 tieni la sinistra sul crinale, sinistra 6 in abballamento e crinale possibile salto, 60, destra 6, 80 sudossi, sinistra 5 lunga, tieni la sinistra sul crinale, destra 6 sudossi, 60, sinistra 6 in abballamento e destra 5 sudosso e sinistra 6, sinistra 5 in destra 4 e angolo retto, destra lunga, sinistra 6, attenzione tieni la sinistra sul crinale, salto, sinistra 4, in destra 5 in abballamento, in sinistra 4 sul crinale, sinistra 6, crinale 80, abballamento, destra 6, sinistra 6, 100, stai al centro su salto alto, 60, crinale 60, sinistra 5, destra 5 tieni la sinistra sul crinale, sinistra 6 in abballamento e in crinale possibile salto, 60, destra 5 sudosso, sinistra 4 lunga, in abballamento e sinistra 3 sudosso, destra 4 sudosso, attenzione sinistra 4 sul crinale, destra 3 in abballamento, diventa 2, crinale, rocce esterne, sinistra 4 sul crinale, 80, sinistra 3 in abballamento e crinale, destra 3 in abballamento e crinale, sinistra 2 lunga sudosso, destra 4, destra 6 e sinistra 5 sudosso, destra 6 in abballamento, 150, attenzione rallenta, crinale con salto, destra 4 lunga sudosso, crinale, sinistra 4, 60, destra 5 sudosso, sinistra 4 lunga in abballamento e sinistra 3 sudosso, destra 4 sudosso, 60, attenzione e tieni la sinistra sui crinale, destra 5 lunga in abballamento, sinistra 5, sinistra 6 in abballamento, destra 5 sudosso e sinistra 6, destra 4 e sinistra 4 in abballamento, bronchi esterni, attenzione, destra 3 in abballamento, 60, destra 4 sul crinale, sinistra 2 apre in abballamento, crinale e abballamento, destra 4 sul crinale, destra 5 sudosso, sinistra 4 lunga in abballamento e sinistra 3 sudosso, destra 4 sudosso, 100, stai al centro su salto alto, 60, crinale 100, angolo retto, sinistra e sinistra 4, sinistra 4, destra 2 lunga sudossi e crinale, sinistra 3 in abballamento e crinale, destra 3 in abballamento, 150, attenzione rallenta, crinale con salto, destra 4 lunga sudossi, crinale, sinistra 4, 60, sinistra 3 in abballamento, tronchi interni e destra 4 in abballamento e sinistra 4, sinistra 4 sudosso, destra 3 sudosso e destra 4 lunga in abballamento, sinistra 5 sudosso, tieni la destra sul crinale, stai al centro sul crinale, in linea in abballamento, 60, attenzione sinistra 4 sul crinale, destra 3 in abballamento, diventa 2, crinale, rocce esterne, sinistra 4 sul crinale, 80, destra 5 sudosso, sinistra 4 lunga in abballamento e sinistra 3 sudosso, destra 4 sudosso, sinistra 3 in abballamento e crinale, altra guardia, ok, verso il commissario, è andata bene, ottima tappa, complimenti!